Buonasera, salve, ciao cameraman! Siamo il partito incerto! Quando al mattino io mi spendo e mi accorgo che è tutto uguale, non è normale, ma con fortuna non c'è sempre un po' da fumare. Quando la sera torno a casa, dopo una giornata, passate all'ora, è ancora tutto uguale, ma con fortuna non c'è sempre un po' da fumare. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!